Cinque anni fa credevo di averti perduta per sempre. Nessuna maledizione può strapparmi da te. Vuoi sposarmi? Sì. Signora, ho una piccola notizia. Non rovinare il mio mattino. Filippo ha chiesto la mia mano. No. Non te lo stavo chiedendo. Nemmeno io. L'amore non sempre finisce bene, bestiolina. Fidati di me. Proveremo che sbagli. Hai compiuto un'opera ammirevole andando contro la tua natura per crescere questa fanciulla. Ma ora finalmente riceverà l'amore di una vera madre. Questa sera considero Aurora... mia. Non c'è alcuna unione. Non ci sarà alcun matrimonio. Che cosa hai fatto? Ora torniamo a casa. Aurora! È una minaccia per tutti. Ma noi ti proteggeremo. Bene, bene. La prudenza non è mai troppa. Padrina! Questa non sei tu. Carato, non mi conosci. Che cosa è accaduto? C'era un'altra creatura. Per anni ti sei presa cura di un'umana. È il momento di prenderti cura dei tuoi simili.